Ne parleremo, lei oggettivamente fa più fatica a lavorare? Molta fatica. Le posso chiedere, se non sono indiscreta, di cosa vive oggi? Io intanto ho la mia pensione, poi compongo delle canzoni dove non c'è nessunissimo guadagno e guadagno di quello, e vivo di quello che ho guadagnato in passato. E fa fatica? Più che fatica è una fatica psicologica. Mi dispiace, certo, e tante persone che potevano aiutarmi non mi hanno aiutato. Chi? Chi? Tante persone. Ad esempio io ho scritto una lettera a Maria De Filippi che io stimo tantissimo, dove chiedevo con grande umiltà di darmi una mano, che pur di uscire da quel momento mio buio, avrei lavorato anche in redazione, anche a spostare solo le fotocopie. Gli ho mandato dei fiori, gli ho mandato il mio libro così magari poteva conoscermi meglio e così mi è dispiaciuto che non ho avuto neanche una risposta. Magari sapete se almeno i fiori sono stati di suo gradimento, che se c'è una cosa dove sono brava è scegliere i fiori con cura. Magari sapete se almeno i fiori con cura.